buon ciao raga benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo boosting con una delle collezioni più fighe degli ultimi tempi va 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 bene stanno scendo tante così però bella 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 destino sfuggente reguanza shining collezioni collezioni poteri supremi o andatevi a vedere lo boosting di kangaskhan non so se è ancora riuscito però appena esce sono troppo motivato allora sediamoci vediamo un set stratosferico destinato a lasciare il segno la collezione poteri supremi contiene tre carte olografiche a figura intera un requaz gx cromatico e due versione dorata di sol galeo e luna la gx una carta gigante di requaz gx sette bustine a set ok va bene una carta codice e un poster oppure il poster andiamo a vedere andiamo a vedere che cosa c'è di bello si vorrebbe un po di musica eh ragazzi mi raccomando se volete che continuiamo a spussare a creare video intrattenimento e tanto altro like commentate richiedete il vostro video richiedete la vostra tech profile interagite con questo tipaccio cattivo e con i suoi amici eccolo qua eccoci qua allora questi non li li caccio nemmeno perché li metterò direttamente in bustina comunque no li caccio che mi interessa che c'è un'altra protezione 1 2 e 3 ok che figo però questi sono quelli sì legali i tre pochi del gioco non hanno debolezza mamma mia mamma mia sbagliatissimo il reguazzo vabbè di questo non lo stanno abusando forse questo è il peggiore eh sì che cosa fa ha quattro carte energia a 2.50 altrimenti quattro carte energia scarta 2 carte energia psico assegnate a questo poco 200 danni mi però ci sta soprattutto perché destino sfuggente o lo trovi così o non lo trovi proprio per codice ce lo stipiamo mentre come sapete gli altri se escono bene ve li ve li regalo andiamo col destino sfuggente con zappdos che cosa vorremmo qui allora a me mi servirebbero qualche starmi per farmi il deco almeno un altro starmi gixo e poi le solite perché no uno dice andiamo a vedere subito o like a rock ok esce invece della reverse like a rock gx era forte questo faceva il guzman e vi con curiosità e beccatevi il codice il tuo messario il tuo messario mostra le carte che in mano ah no nemmeno che forte ivy con due carte energia fa si legge effettazione non so che cos'è vabbè 30 danni legge una moneta se c'è testa si fa 10 danni da solo onesto un'altra shiny due bustine due shiny e due codici ragazzi beccateli e questo le bustine determinazioni misti no non era quella che mi serve e la testa di o no di moltres articulo e zappdos cialmente slowpoke pikachu un giolto reverse un ultimo tentativo di brain dai via devono lo stesso mi sento gentile non è per il giolto non è giusto per la gentile ass eccolo qua un charizard nero ci potrebbe uscire un bel charizard nero potrebbe sai da slowpoke oh magnemite un'altra shiny e siamo a quota 3 su 7 e piatti vi un altro codice dai un altro charizard nero ci ha dato la cia di caldo mica vuoi uscire charizard nero ci ha risalto mica può uscire charizard vediamo charmed e crefari magica pikachu uuuu rals bello rals e siamo a 4 l'altro le carte sono sempre le soldi c'è veramente se vado a vedere ma sono le ultime nel senso mentre vi guardate queste shiny che c'è qua allora tentativo di play tentativo di brina e si legge al esito di giovanni palestra e palestra determinazione determinazione ok nelle altre nelle altre due bustine troveremo altre coppie i codici li buttiamo via e andiamo che apro e vabbè nessuno mi può rispondere Mewtwo dai vai Mewtwo Eikens, Coffin, Cubone, Farfetch Electrode e Sirio Giovanni, tiraci il blocco e un'altra trappola dai pigliatevelo tutto questo box sto contento per che non cascano di prima ultima bustina ooo o sta io Eikens cate qui sembra che c'è qualcosa dai batte qui trappola un'altra falenza, un'altra strategia un'altro codice non so se secondo me ve lo dati tutti però qua ci sono gli altri codici vedete lì di riscattare vediamo tortoneto non male raga non 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 male poche cose per uscito un jolteon reverso e un'elettrode mamma mia a me ci sta ci sta tantissimo anzi meglio da soli questi spussing fatemelo sapere nei commenti comunque grazie mille per la visione ci vediamo al prossimo video i codici ve li ho dati mi raccomando like iscrizione al canale commentate richiedete richiedete